Nell'anno dedicato alla sostenibilità alimentare e alla rivalutazione del territorio si inaugura un nuovo percorso dedicato alla valorizzazione dei saperi e sapori della nostra terra. Da questo slogan prende il nome il progetto che Copestense ha avviato già lo scorso anno e che completerà il prossimo anno scolastico puntando sulla scuola e sulla formazione che gli istituti tecnici agrari offrono ai propri studenti. Per la BAT è stato l'istituto tecnico agrario Umberto I di Andrea ad essere stato scelto per sviluppare un percorso sui saperi e sapori del cibo della nostra terra. Perché il cibo è cultura, quindi ha un proprio linguaggio e in quanto tale conserva una storia e una identità che vanno salvaguardate. Gli studenti del triennio dell'ITA sono chiamati a salvaguardare l'identità della propria terra valorizzando dunque il cibo. Nell'incontro con Elisabetta De Blasi, giornalista food and travel del Gambero Rosso, tenutosi negli ambienti della scuola, i ragazzi non hanno solo degustato l'olio extravergine di oliva limitandosi ad apprezzarne pregi e qualità sensoriali, ma hanno anche imparato a conoscere la civiltà, la storia, la cultura e le tradizioni dell'alimento, perché questi sono i valori che stanno dietro ad un prodotto tipico e lo rendono diverso dagli altri. Step finale del progetto sarà la creazione di una vetrina di eccellenze da mostrare al pubblico e un intreccio creativo di testimonianze di storia e di vita, poiché queste, ha affermato il coordinatore dell'ITA Riccardo Liso, sono fonte di conoscenza del nostro territorio. Grazie a tutti.